dvd a registrando mattia scontrolli c'è il quadrato bianco quadro bianco c'è qua cazzo mi so c'è il quadrato bianco ma guarda te guarda c'è il quadrato bianco vieni qua e riguarda il sinistro oh no il mio cazzo il quadrato bianco devi scchiarlo ti ammazzo il cane c'è il cinque mila live ehm matthias matthias bra e gli altri aia 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 quanto cazzo di vita mi hai tolto c'è di merda cazzo fai no mi hanno mi hai uccitato un play di mattia scontrolli attenzione maxia soksa scende le staccale attenzione il magnifico gameplay di maxia soksa sta ricaricando attenzione guarda in alto senza contare che sotto ci potrebbe essere qua ne ha uno dietro non se ne accorge c'era l'ombra e non se ne ha accorto attenzione signori guardate come guarda sotto nonostante lui ebbe un nemico dietro le sue spalle guardate come il rusha rusha dentro la stanza attenzione guarda destra e sinistra ma non mira mai un cazzo perché non sa giocare a questo gioco guardate come guardate come il circospetto si accascia sul pavimento attenzione attenzione sale sul ascensore guarda in alto perché è un bambino autistico guardate guardate va a destra va a destra non c'è un cazzo di nessuno se ne trova uno in faccia spara a caso spara a caso coltella coltella spara a caso attenzione deve ricaricare usa l'arma secondaria e viene downato attenzione alibi con il super gameplay lei lo uccide ponendo fine al nostro team andate andate iscrivervi a miti marley mattia scontrollate registrando non lo so c'è il quadratino bianco guarda se c'è il quadratino bianco eh c'è il quadratino bianco ma dove? lì lì c'è il quadratino bianco dove dovrebbe essere? lì lì è lì è bianco e allora che cazzo vuoi star registrando? ma guardalo te cazzo cazzo no devo prendermi elaston round cazzo non posso darvi fastidio con Vigil ah no aspetta ho ancora le granate no no che succo lì a botta gli spucconi e potrai i miei borgni ho dato una cosa mattina porco di aaaah l'hai sprecata non più no sei un coglione sei un coglione ho 40 di vita 40? c'è un ht6 grande uccidere no più di troi ok perfetto ti giuro ti giuro che non l'ho fatto apposta no no qua non ti ho ucciso stato minchia cosa pensavi fosse un avversario? sinceramente come quello? si su poco più ricky bravo attenzione attenzione ma non pensavo che era solo ucciso e invece sono qua andato siamo a due? siamo a due mattina tieni il conto eh per l'ace anche mira di merda dai che culo di merda che mi trovi così c'è sono sotto che culo di merda ciao oh oh ace 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 sono sei kill con la tua sono sei cazzo di kill sono un porco di uno e il più uno abbiamo il titolo abbiamo il titolo abbiamo il titolo del video abbiamo il titolo del video ace più basta io chiudo il video così basta 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 abbiamo abbiamo basta questo è un video mattina mattina ma basta ma questo è un video space mi dimetto chiudo il canale basta attenzione gli trova davanti un alibi e lo uccide che kill di merda cioè esclamando il nostro eroe purtroppo sconfitto da questa spiacevole svolta degli eventi è distrutto e ora guarda il futuro con occhio diverso pensando alla prossima volta che verrà sicuramente ucciso adesso ti ritieni in kill e faccio un'altra ace attento atti e chi puttana eva tu non sai come l'ho fatto che fai con tu vai appena avervi vedi il video dici mamma mia uccidimi che fai 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 un click fai un click fai un click fai fai attenzione cerca di riprodurre la mia tattica mattia eh perchè non sapevo che andassero anche lì eh si che vanno lì cazzo cioè ehm ma sicuramente perchè devi fregare perchè deve essere un bambino di merda che va a spiare la vita degli altri va bene che sono gli altri che la pubblicano beh sono gli altri che la pubblicano però eh punto però perchè devi essere un bimbo minchia che si va a codare alla spilta di bimbi minchia che guarda i bimbi minchia no perchè ha la mia compagna di classe per quello che la seguo ma perchè non la smetti di seguire anche io ho dei compagni di classe che fanno instagram eppure non sono un tumore cioè non mi va di guardare il tumore ma cosa c'entra? cioè io la seguo perchè ha la mia compagna di classe ok ma che... cioè non ha una dinamica sta cosa cioè anche io ho dei compagni di classe che hanno... ma non è che seguo indistintamente qualsiasi cosa che... cioè tu si in internet mentre stiamo giocando a... no mi stiamo giocando la città io ti ammazzo di botte ti ammazzo di botte figlio aspetta no in più cioè sei così sfigata da prenderti ascia cioè ti ammazzo del no sei così sfigata da prenderti ascia e poi lo prende lui minchia o te è proprio incoerente come una puttana madre è proprio incoerente come una puttana madre e che le sia fotosensibile ma tua madre è fotosensibile ahahah 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 si vergogna di farsi fare le foto no no ti fai una foto ti viene un attacco epilettico una batuta di merda ti fai una foto ti viene un attacco epilettico proprio no 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 la puss eh esatto e poi muore io ho fatto diciamo una batuta di merda no eh perchè ho detto la pulsazione sensibile si vengono di farsi fare le foto cioè sensibile non c'è non vuol dire che si va a farlo si vabbè ma io voglio dirla così cazzo vuoi cioè ma fa schifo come l'hai detto questo gioco no se ci metti le stelle in mezzo è ancora peggio sappi c'è clash che è tipo catafratta era ferma a pensare sul futuro eh era ferma a pensare al futuro clash mi sembra ripeti il verbo un attimo ripeti il verbo a parque all'infinito smandrupparlo no 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 all'infinito all'infinito cioè coniugamelo all'infinito while the pe si mandonapparci all'infinito cof Sacare non sai qual è l'infinito di smandruppare Sbandroppare Coglione di merda Adesso Mattias Adesso vi fa una ace Clutch Adesso mi ammazzo E Mattias Mattias fa 6 kill 6 6 Mi ammazzi tu quindi Ok mi ammazzi tu Va bene va bene E lo aspettiamo tutto il tempo 6 kill Tutto il tempo 6 kill 6 kill Vai 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 Andate andate Eh Mi ammazzo L'ho sparato in te Mi spari per favore Oh Cazzo Due ore Porco dio Porco Vediamo come Come lagga Mattias Mattias Vai Matti vai Io trusto Io trusto È lì Matti Prima andato vai 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 Ricarica Eh no È lì È lì Eh guarda come cazzo laggo Cioè Hai visto Sai che non te la fai neanche oggi Lace Mi sorri boss